Buon pomeriggio dalla redazione della TGL News, si è aperta con l'intervento della Ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, l'edizione primaverile del Festival del Diritto che proseguirà anche domani con numerosi incontri. Il tema dell'edizione è la dignità, Finocchiaro tra gli altri temi ha parlato della legge elettorale e del femminicidio. Rischiamo di chiudere così i commercianti che lavorano nell'area della Ponte del Trebbia che verrà chiuso il 1 giugno per manutenzione. L'ipotesi del guado in alveo è stata bocciata e ora si cercano alternative. In Vino Veritas, viticoltori protagonisti del convegno organizzato da Coldiretti ieri sera a Borgonovo per dare il via alle iniziative legate alla tradizionale Fiera dell'Angelo. Sono 2017 le firme raccolte dal Comitato degli Amici del Parco della Pertite per mantenere la destinazione a parco urbano e non ad area attrezzata. I documenti sono stati consegnati questa mattina al Comune di Piacenza. La musica è tutto pronta allo spazio rotative per la finale del concorso nazionale Chicco Bettinardi per giovani talenti. L'appuntamento è in programma domani sera alle 21.15. Si tratta dell'ultimo evento della Piacenza Jazz Fest. Per lo sport, la Lega Pro domani è il giorno della derby tra Piacenza e Pro Piacenza. L'appuntamento alle 20.30 allo Stadio Garilli. È tutto, a più tardi. Grazie a tutti.